E' bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, qui il vostro Flaity e ragazzi miei oggi ci troviamo su questo nuovo vlogchettino del lunedì Mi scuso innanzialmente a tutti perchè settimana scorsa purtroppo non ho potuto fare un video ragazzi, mi dispiace tantissimo Però comunque sia questa settimana eccoci ritornati con questo nuovo videozzo Ragazzi miei, allora che cosa parleremo questo lunedì? Per quelli nuovi vi spiegherò velocemente come funziona il lunedì Ragazzi il lunedì farò video come questo qui che vedete ora dove io sto qui davanti a voi in prima persona Parlo, vi spiego tutto, parlo di argomenti che piacciono a me E eventualmente ragazzi miei se nel video precedente mi avete lasciato domande Oppure sul mio discord che lascerò in descrizione avete scritto qualche domanda Io vi risponderò nella seconda parte del video In più ragazzi vi invito a utilizzare anche il nostro TS ufficiale creato da Markel Tanti saluti a Markel, tanti saluti a Olo che rispettivamente l'uno e l'altro hanno creato varie cose per questo canale E Olo il discord e Markel il nostro bene amato TS E' fatto molto bene, non lagga, mi raccomando ragazzi andate a vederlo e autorizzarlo Ci sono tantissime stanze free per tutti voi Però, tornando a noi, ragazzi miei Allora, iniziamo con la prima parte del video dove parlo di qualcosa che piace a me Allora, raga, come per quelli che mi seguono per Minecraft o cose così Anche Fortnite sanno bene che a me piacciono le cose medievali Oggi ragazzi miei vi parlerò di dei libri che io leggo E dell'ambientazione che mi piace leggere Ovviamente il mio telefono viene a... Ok, grazie Nessuno mi scrive mai i messaggi Però adesso che sto registrando partono i messaggi Comunque sì, ragazzi miei Quello che parleremo è di robe medievali Principalmente io leggo Non voglio dire tanto Ma credo che leggo un'oretta al giorno Di libri che piacciono a me Adesso mi sono comprato il cavolo di Kindle Il Kindle è una specie di tablettino E' questo cosetto qui Che praticamente ha lo scopo di riprodurre ebook Ovvero libri in modo elettronico Dura una settimana la batteria Io ci leggo circa un'oretta al giorno E devo ammettere che ha il suo perché E' comodo, lo puoi portare dappertutto Ti eviti a portare mattoni di libri Anche per scuola l'ho utilizzato E devo ammettere che è comodo Puoi scaricarti i libri scolastici E metterli lì dentro E andare a scuola con quel coso Ti risparmi chili e chili di roba Ed è comodo Ha il touch, eccetera, eccetera Però comunque sia Parleremo dei libri che piacciono leggere a me Allora ragazzi miei Come forse tanti di voi non lo sanno Perché non l'hanno Ovviamente io non lo dico mai in live A me piace Game of Thrones Ma tipo tantissimo E con tantissimo voglio dire Veramente tanto Ho miliardi di libri Game of Thrones Ossia questo grosso Che praticamente tratta Tratta la storia di Westeros Ovvero la storia di Game of Thrones In modo generale Come vedete Me lo sono già letto abbastanza tutto E come vedete ci sono varie Oddio aspetta C'entra? Oh sì, eccolo Praticamente ho trattato varie Cioè questo libro tratta vari argomenti Ad esempio da chi sono i re di alcune popolazioni Ad altre cazzate e così via Parlando, arrivando fino a parlare Delle casate dei vari personaggi Da notare Robert Baratheon Che è stato qua Da notare Robert Baratheon E' il mio personaggio principale Che piace di più di tutti Su Game of Thrones Ovviamente quelli che hanno visto il film Ragazzi miei Dovete capire che Robert Baratheon Che piace a me Non è quel porco che vedete lì Cioè anche nei libri Viene scritto come un porco Però ragazzi miei Robert Baratheon era un uomo cazzuto Robert Baratheon Per quelli che leggono libri Sanno bene Che Robert Baratheon Era un uomo cazzuto E praticamente siamo arrivati A parlare di Game of Thrones Eccoci qui Volevo arrivare a questo punto Praticamente Game of Thrones Ragazzi miei E' uno dei pochi libri Che io ho letto Tipo tre volte Però Mi piace un sacco E poi i libri Ovviamente Game of Thrones Sono cinque libri Devono uscire altri Così via Lasciamo perdere la serie televisiva Che è la puttanata Che ha sparato All'ultima stagione E' paurosa Non voglio mai più vedere Una serie televisiva Basata sui libri Però parlando di serie televisive Basate sui libri Ragazzi Un altro libro che ho letto E' il templiare Che è sempre il periodo medievale Questo qui parla di più Delle crociate Spero come funzionano le crociate Devo ammettere che E' una stracavolo di figata Anche lì stiamo in ambientazioni medievali Dove la gente si scanna Combatte Fa cose Di conseguenza anche lì Mi piace molto Però devo ammettere che Rispetto a Game of Thrones E' un po' più leggero come libro Game of Thrones Un libro che devi stare lì Ti deve ricordare i dettagli Dal primo capitolo Fino all'ultimo Ci sono tantissime cose Ragazzi Che sono Come posso dire Intrecciate E' un po' più difficile A leggere Invece il templiare Non è così Confusionario Ha una storia Molto lineare E Quasi un racconto Per bambini Direi Game of Thrones Ha un po' Ha qualche lato Un po' più oscuro Invece Si Avete capito Quello che vi voglio dire Poi ragazzi Torneremo a parlare Di un altro libro Che è il terzo libro Che era Praticamente ora Vi sto raccomandando Dei libri A leggere In poche parole L'ultimo libro Che vi raccomando Di tipo medievale Se volete entrare Nell'ambientazione medievale Dei libri L'ultimo libro Che vi consiglio E' praticamente Come si chiama La leggenda di Re Artù Di Cornwell Praticamente lui Come ha descritto il suo libro Praticamente spiega Come lui Vede La leggenda di Re Artù E come la interpreta Praticamente Cornwell Era uno scrittore inglese Se non sbaglio E praticamente Ti fa delle cose Bellissime Ragazzi Sono tipo Tre o quattro libri Che narrano il tutto L'ho letto solo una volta Però vorrei Rileggerli Ho iniziato a leggerli In spagnolo Giusto per alimentare Un po' La mia passione Per le lingue E Per quelli di voi Che non lo sanno Io studio mediazione Quindi sono cose Che mi interessano Praticamente ragazzi miei Quello che Parla questi libri Cioè il modo in cui Spiega le cose Ad esempio Merlino In quei libri Esiste Però Viene quasi Associato A un pazzo Non è che Cioè non ti fa intuire Nessuno dice Merlino Tu sei pazzo No Però lo fa intuire In qualche modo Però allo stesso tempo I fattori di magia Che ci sono Su Sulla leggenda Di Re Artù Ad esempio Stregonerie E altre cavolate Sono spiegati In modi Abbastanza carini E allo stesso tempo Ti fanno dire Aspetta Ma questo è un fenomeno naturale Però allo stesso tempo Ti fa pensare Oh mio dio Può essere una casualità Oppure è veramente Una magia E' molto carino Ti fa ragionare molto Su queste cose Ad esempio Ci sta un punto Dove La moglie Del personaggio Principale Praticamente Si ammala E si dice Che è una stregoneria Fatta da una strega Però Allo stesso tempo Ti fa intuire Come magari Lei In realtà Quello che ha mangiato Gli ha fatto male E così via Di conseguenza Ragazzi E' molto intrigante E' molto bello Allora Ci sta sia la narrativa Dove spiega L'ambientazione In cui si trovava Re Artù Ci sta le battaglie Sanguinose Combattimenti Questo e quell'altro Ci sta un po' di gore Ad esempio Teste mozzate Braccia tagliate Eccetera Di conseguenza Ragazzi Questo è un altro libro Che vi consiglio E' molto stile Game of Thrones C'è anche Tutta quel C'è anche tutto Quel dramma Che c'è su Game of Thrones Di conseguenza Ragazzi Vi consiglio Di vedervelo Allora Ragazzi Fatto ciò Praticamente Questo episodio Avendo 500 iscritti Non ho miliardi Di domande Comunque sia Mi era stato chiesto Sul Discord A parte pubblicizzare Discord E ETS Mi è stato anche chiesto Di parlare dei libri Di conseguenza Io l'altra settimana L'ho tralasciata Questa domanda Appunto Per farci proprio Un video Di conseguenza Ecco che ho risposto A questa domanda Ragazzi Se avete altre domande Per me Che volete che io vi risponda Oppure vi dico Cosa penso Su vari argomenti Mi raccomando Entrate su Discord O su TS Ogni tanto stiamo lì Fatemi delle domande Non lo so Io me le scrivo Possibilmente scrivete O sotto a questo video O su Discord Lascerò il link In descrizione E niente Lasciatemi lì Le domande Ci sta il reparto Domande per off late Che io prenderò In considerazione E risponderò Sul prossimo video Ragazzi Grazie mille A tutti voi Che avete visto Questo video Per i 9 minuti E 50 Che dura Lasciate like Iscrivetevi Se non lo avete fatto Se siete nuovi Mettete la campanellina Così non vi perderete Niente dei miei video E ci vedremo Mercoledì Con il mercoledì Il minecraftiano